Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buon ascoltato del Vangelo di oggi, di mercoledì 28 dicembre, Santissimi Innocenti Martiri. La liturgia ci propone il Vangelo secondo Matteo 2, 13-18. Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe ed è stato si prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggi in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse a ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Dall'Egitto è chiamato il mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e ha mandato uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio, dai due anni in giù. Corrispondente al tempo e su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in rama, un pianto è un lamento grande. Rachele piange sui figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Il dolore innocente è forse l'argomento che grida di più contro Dio. Perché Dio permette il male? Perché permette che un innocente soffra? Sarebbe davvero sbagliato da parte nostra avere la presunzione di poter rispondere a una domanda che attraverso il cuore di tutta la storia ed è gridata al cielo più volte, anche nei racconti biblici. Ma dire che la risposta è un mistero non significa che il Signore ci lascia al buio. Nel racconto del Vangelo di oggi, in cui viene descritta proprio la dinamica del martirio dei bambini di Betlemme, Erode sembra poter spadroneggiare senza che nessuno lo firmi. Dio sembra assente, ma sappiamo che agisce nel cuore di Giuseppe per poter salvare Gesù. È un errore leggere questo Vangelo, pensando che Dio salva Gesù a scapito di questi bambini. Salvare Gesù significa salvare l'essenziale, il senso, il motivo per cui il male non avrà mai l'ultima parola. Salvare Gesù significa dire che Dio lascia sempre viva una speranza, una luce, una strada che ci tira fuori da certe cose. Se il dolore innocente sembra prevalere, il Vangelo ci dice che non può mai vincere fino in fondo. Ecco perché persino la morte di questi bambini è attraversata da una speranza, da un significato, da una luce, che certamente però non giustifica Erode, ma non lascia che vinca fino in fondo.